Signori, mi chiamo Danemoccia e oggi parleremo di Urasawa. Urasawa, nei suoi primi vent'anni di vita, collezionava insetti. Si rese poi conto che sarebbe stato molto bello fare combattere questi insetti e magari che alcuni di questi insetti potrebbero raggiungere uno stadio di potenza maggiore rispetto ai precedenti. Quindi ha pensato che questi insetti si sarebbero potuti chiamare Insai. E poi ha detto ma suona molto male, sai cosa potremmo fare? Sai e aggiungiamo altre lettere facili da pronunciare. Quindi Saiyan e ha detto Saiyan. Ma perché non mega, no mega suona male, super, super Saiyan. Ci serve una storia, ci serve un momento, ci serve una trama. Un bambino, un bastone, un pelato. Dragon Ball.